Buongiorno, oggi siamo qui a parlarvi di Innestad e questa bellissima maglietta creata da Vicky Aquilino. Questo pattern è uscito da poco e lo trovate fruibile su Raverly. Partirà con questa maglietta, un cal, stasera su Discord con Patricia e Farfilo Naonis. Stasera può partecipare chiunque per capire lo svolgimento di questo cal, per capire anche la costruzione di questa maglietta che ce la spiegherà Vicky proprio nel dettaglio. Allora, questa maglietta da Vicky è stata fatta con una Zaubermal, l'ho detto bene perché è un papaglio come un... Però ha detto che si può fare anche con dei colori solidi o semi solidi. L'importante è che sia un filato sottile, da lavorare con un 250-275. Quindi, noi non abbiamo molto da proporvi perché comunque sì, è un filato direi abbastanza sottile. Io non sto a spiegarvi la costruzione, comunque è un top down. C'è comunque un filo di contrasto per fare i bordi e le finiture. Ha una bellissima cucitura che parte da sotto alla manica e costeggia tutto il fianco. Io non sono brava a descrivervi, comunque è un bel articolino. Allora, di nostro vi possiamo proporre il King, che però è rimasto in questi due colori. È rimasto questo azzurro e questo chiaro. Sono questi due colori. E comunque la apro, Heidi, perché questa merita. Questa è Tolosa, è sempre di Vicky Aquilino, fatta in un calcoletester. Quindi, il King è un 72% cotone e il resto deve essere merino. Però è una presenza talmente bassa che ci può stare, soprattutto con un'estate come questa che non è calda. Quindi, il primo a proporvi è il King. Poi abbiamo da proporvi dei filati in occasione. Il 27, che è un bellissimo cotone 100%, che è un cable, quindi abbiamo dei colori abbastanza forti e lucidi. Poi abbiamo il 24, che anche questo è un 100% cotone. E qua abbiamo tre sfumature di arancio, un giallo grano, no, sono quattro sfumatori di arancio e giallo grano, qui. Qui abbiamo un po' vari colori, abbiamo il blu, abbiamo il melanzana, abbiamo il verde smeraldo, abbiamo il gecko, il fucsia. Questo è il filato che io ho fatto con la stola all'uncinetto fucsia, che tu mi volevi vendere. Sì. Bene. E poi io aggiungerei anche il filato 4, sempre all'occasione, che è 80 cotone e 20 viscosa. È leggermente un po' più grossettino di questo, ma poco, 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 poco. E questo è un filato un po' particolare, perché sono due filati uniti insieme e non dovrebbe essere brutto neanche questo. Poi potremmo fare le finiture con l'arancio, perché dobbiamo comunque usare un filo di contrasto. Bene. Io con la mia tendinite sono messa ancora un po' male. Si dice un po' male? Mh. Male. Mi fa male. Va bene così? Sì. Allora, appuntamento stasera alle 21.30 su Discord con la presenza di Vicky Aquilino, che ci descriverà questo bellissimo pattern. è con la presenza di Patricia, che è la padrona di casa, Silvina, che è il loro canale Discord, dove facciamo gli incontri al giovedì pomeriggio. Quindi io vi consiglio di partecipare, perché almeno così ci si vede, facciamo due chiacchiere, ascoltiamo quello che hanno da spiegarci, poi se una crede di fare il progetto, acquista il pattern e partecipa al caldo. Discord è una piattaforma, scrivete su internet Discord, vi registrate e poi dopo immagino che ci sarà un link, no? Sì, Patricio, dopo ti manda il link, è sparito il mio campione. Vedete che vento che c'è qua? Quindi ho già risposto, perché mi mandino già le domande. Ok, poi cosa gli puoi dire? Puoi mettere un link, tu che le porta a Discord? Ci sarà quello, perché sarà una stanza, presumo. Certo, allora, Heidi vi mette il link da poter arrivare a Discord tranquillamente, ok? Lo dovete registrarvi e lo dovete fare voi. Perfetto, benissimo, così vi facilita un po' quello che è la navigazione virtuale. Certo. Va bene? Allora, ci vedremo presto perché ho delle altre cose da farvi vedere e per oggi vi salutiamo. Ciao!